È davvero un periodo magico per Matilde Jolie. L'attrice, classe 1989, sta raccogliendo i frutti della sua lunga gavetta e ha trovato anche un nuovo amore. Dopo i romantici selfie su Instagram la protagonista della fiction Rai Doc Nelle Tue Mani ha parlato del nuovo fidanzato in una lunga intervista al settimanale L'uomo che ha rubato il cuore a Matilde Jolie si chiama Alessandro Marcucci ed è un insegnante di equitazione. Proprio l'amore per i cavalli è stato galeotto tra l'attrice e la sua dolce metà. Matilde ha rivelato. Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google. Passeggiate a cavallo Roma. E ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po' quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c'era riuscito. Ogni volta scappavo. Lui invece. Matilde Jolie è stata single per due anni prima dell'incontro con Alessandro. Avvenuto del tutto in maniera casuale durante una pausa dal set. Il tempo vissuto in solitudine è stato importante per Matilde. Che è riuscita a capire di più se stessa e a crearsi i propri. L'attrice ha aggiunto. Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura. Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. A fine agosto Matilde Jolie ha trascorso in compagnia del nuovo fidanzato uno dei compleanni più belli della sua vita. Prima un lancio con il paracadute poi un picnic in quota. Sui Monti Sibillini. Matilde è davvero molto innamorata di Alessandro e si è detta pronta a fare subito un figlio con lui. Matilde Jolie ha inoltre svelato che Alessandro. Al loro primo incontro avvenuto all'inizio dell'estate 2021. Non l'ha riconosciuta. Marcucci non aveva mai visto un film o una fiction con la Jolie. Diventata popolare soprattutto grazie alla fiction Rai di successo Doc Nelle tue mani. Dove recita accanto a Luca Argent. Matilde Jolie è un'attrice classe 1989. Ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014. Dopo aver superato per caso un provino con Paolo Virzi per il film Il capitale umano. Da lì non si è più fermata e si è divisa tra cinema e tv. Non disdegnando il mondo. È stata pure valletta di Fabio Fazio in una puntata di Rischiatutto su Rai 3. È laureata in filosofia e in passato è stata legata al collega Francesco Scianna. Star di Bahria.